Pioggia di soldi. Bobby è un infiltrato, anche Stibio. Sono due freelance. Entrambi non sanno dell'altro. Vuoi rapinare una banca? Poi c'è un cattivo. Dove sono i soldi? Ma soprattutto un bel mallocco. Hai fregato i soldi della CIA. Hai 24 ore per portarmi i soldi. Ce l'hai un piano? Ci sto pensando! Pensa più in fretta. Denzel Washington, Mark Wahlberg. Tu mi stai fregando, bello mio. Tu vuoi essere fregato? Per il ciclo questa è una rapina. Cani sciolti. Sabato alle 21 e 15. Rai 4.